Michele Criscitiello, direttore di Tutto Mercato Web.com, siamo qui a Milano per i TMV Awards, verrà premiato tra poco il DS dell'Inter Ausilio, il giudizio che è arrivato da parte dei nostri lettori ha premiato il direttore sportivo Nelazzurro, mi sembra una scelta che condividi? Assolutamente, assolutamente sì, anche se ovviamente molti lettori poi si chiedono come mai ad essere premiato il direttore dell'Inter Pier Ausilio con l'Inter che nell'ultimo anno di sicuro non ha stupito in bene. E' una decisione, quella dei lettori, ovviamente che può essere anche opinabile, però io credo che Ausilio innanzitutto bisogna rimarcare un dato statistico che nei TMV Awards è il più giovane direttore sportivo a ritirare il premio, perché nella palmaresse ricordiamo ci sono Pantaleo Corvino, Pier Paolo Marino, Beppe Marotta, Pietro Lomonaco, Daniele Prade, bravissimo, comunque tutta gente di una certa esperienza. Pier Ausilio invece negli ultimi anni, ma soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, ha avuto un'autonomia importante all'Inter dopo l'addio di Marco Branca. Secondo me è assolutamente un premio meritato, meritato perché comunque bisogna non dare il valore e un giudizio sull'operato del direttore solo in base alla classifica, altrimenti lo diamo tutti gli anni a Beppe Marotta perché la classifica è molto semplice e quindi in quel caso se guardiamo la classifica diamo il premio. Credo che i lettori di tutto mercato web abbiano votato bene perché Ausilio è un direttore giovane, un direttore preparato, sta cercando di fare miracoli in un Inter che comunque sappiamo è in una delle fasi più delicate della storia nera-azzurra e quindi secondo me un giovane va premiato soprattutto per quello che sta facendo ma anche per quello che sta provando a fare. Solitamente si dice che la povertà non deve mai essere vergogna, l'Inter ha detto che in questi anni e lo ha dichiarato più volte che non ci sono i mezzi economici per fare un Inter grandissimo come gli altri anni, bisognerà aspettare un altro bilancio, un'altra stagione, però nel frattempo secondo me si stanno muovendo bene, nonostante il campo dica per il momento il contrario. Stando sull'Inter, secondo te qual è stato il colpo più importante messo a sigla nera-azzurri in questo mercato di gennaio? Ma ti potevo rispondere come cartolina a Podolski, però se Mancini non lo sta facendo giocare ci sarà un motivo, significa che qualcosa ancora non va. Ti potrei rispondere Shakiri perché comunque ha avuto un buon impatto, ti rispondo paradossalmente Brozovic perché credo che sia un giocatore forse meno gettonato per la stampa e per i tifosi, ovvero quando arriva Brozovic non trovi 500 persone all'aeroporto, arriva Podolski, arriva Shakiri e trovi un gran caos. Però è un giocatore che secondo me ha grandi, grandissimi margini di crescita, si è ambientato meglio rispetto sia a Podolski che a Shakiri e quindi credo che comunque Brozovic in questo momento potrà essere più utile alla causa nera-azzurra. Invece in generale qual è stato il colpo che ti ha sorpreso di più e che è stato più funzionale secondo te? Risposta molto semplice e banale, Manolo Gabbiadini, anche perché Gabbiadini è un ragazzo atipico in una città atipica. Napoli è una città che ti invade, ti dà proprio tutta la forza d'animo e ti spinge, ti toglie molta privacy. Gabbiadini invece è proprio il classico uomo da piazze come, faccio un esempio per la piazza, non per la forza del giocatore, il Chievo Verona, l'Udinese, sono piazze un po' più tranquille che se vai al ristorante e in pizzeria ti lasciano comunque tranquillo. E quindi questo è il Gabbiadini che io conosco come uomo e non come calciatore. Per quanto riguarda invece la forza di Gabbiadini è stata quella di aver avuto un grandissimo impatto con la piazza di Napoli e soprattutto con la squadra. Il problema di Gabbiadini poteva essere non gioco, non segno, faccio male e poi Napoli ti risucchia. Essere partito così bene, il gol al Chievo, il gol all'Udinese e il titolare, a mio avviso gli dà la possibilità di crescere ancora tanto in una piazza che lo potrebbe consacrare in maniera definitiva e in maniera anche assoluta in un campo internazionale, non solo italiano. Gabbiadini se lo merita.